Sia ben chiaro a tutti, oggi si soffia sul dissidio, si soffia sulla stalkerizzazione del dissenso critico, sulla discriminazione, sulla esasperazione degli animi, sull'odio tra punzonati e non, tra chi è fornito del lascia passare e chi ne è sfornito. Ecco, però attenzione, non dimentichiamo che siamo tutti sulla stessa barca. Voglio dire che in questo psicodramma forcaiolo la vittima è trasformata in carnefice. Oggi la vittima trasformata in carnefice è il non punzonato, che viene descritto dai professionisti dell'informazione come un pericoloso terrorista, mentre chi è munito del lascia passare viene illuso di essere un privilegiato rispetto ai 16-17 milioni di persone che non ne sono munite e che i venti di odio descrivono come paria, come degli intoccabili da far vivere segregati in una suburra. Però domani questa grave dinamica persuasiva e manipolativa, alimentata dal sommo liquidatore, riguarderà anche chi sino a questo momento ha aderito, volente o nolente, alle direttive ricattatorie di questo governo. Allora che cosa accade oggi a chi è guarito dal covid e ha gli anticorpi altissimi? Succede che non gli viene rilasciato il lascia passare se non si rende disponibile ad almeno una inoculazione. Inoculazione che non solo è inutile, ma è persino pericolosa in presenza di anticorpi. Che cosa accadrà a chi rifiuterà la terza dose o i futuri continui richiami? Succederà che toglieranno il lascia passare anche a questa persona che è stata illusa di essere una privilegiata. Che cosa accadrà a chi rifiuterà l'uso delle infame lascia passare pur avendone requisiti? E che cosa accadrà quando i programmi di controllo sociale reticolare verranno esteso come prassi consolidata? Il lascia passare è il primo passo verso la implementazione, verso la stabilizzazione di una dittatura tecnocratica di stampo autoritario. È uno strumento di controllo totale fondato sulla digitalizzazione e sul tracciamento di qualunque nostra attività. È proprio esattamente come sta avvenendo nelle grandi città in Cina. Quindi è fondamentale che tutti quanti apriamo gli occhi su questa prassi ricattatoria antidemocratica. Il lascia passare verde non è una scelta scientifica, ma è una precisa manovra politica. È un'ombra nera, è un'ombra nera che si allunga per mettere in campo in modo progressivo sistemi di controllo reticolare sempre più stringenti. Chi è stato o chi è vissuto in Cina per qualche tempo ha vissuto sulla propria pelle un governo che non è un rappresentante del popolo, bensì è un padre padrone che educa, nel senso che piega all'obbedienza incondizionata ai cittadini, come se fossero dei bambini sciocchi da guidare o da punire. Del governo cinese infatti si parla di autoritarismo paternalista. Riusciamo a vedere che questa piega la si sta assumendo anche in Italia? Riusciamo a vedere le implicazioni di questa sinizzazione in atto della nostra società? Queste vessazioni emotive, queste vessazioni psicologiche neppure troppo sottili? Queste coercizioni ricattatorie che non proteggono le persone ma proteggono i ricattatori? Riflettiamo sulla gravità della situazione odierna e non cadiamo nel sortilegio del divide e timpera, perché siamo tutti sulla stessa barca dove tutto è interdipendente. Quello che ora succede a me domani succede a te, quello che succede a te domani succede a me. È un destino condiviso, è un destino interdipendente. E allora è saggio essere ben consapevoli che noi cittadini italiani, nessuno escluso, siamo tutti quanti sulla stessa barca, su questa barca italiana che da tempo è stata prescelta come topo per esperimenti di ingegneria sociale del laboratorio mondiale. E allora ricordiamoci bene, siamo tutti, nessuno escluso, su questa stessa barca ed è importante restare uniti e consapevoli.